ciao a tutti oggi vediamo questo pezzettino di legno di betulla prima è stato lisciato con la carta vetrata e poi ho fatto un disegno della testa di un cavallo ecco vediamo che grezzo con ancora la corteccia attaccata e inizio a lavorare con il mio pirografo bram peter junior la particolarità del legno di betulla è anche la porosità infatti è un po poroso da lavorare nonostante sia stato lisciato però si fa un po fatica proprio per la porosità del legno anche il colore è un colore piuttosto opaco e tendente al grigiastro il marrone non è molto luminoso il marrone dato dalla bruciatura ho voluto provare perché ho trovato questi pezzi di betulla e volevo vedere l'effetto mi piaceva anche questa testa di cavallo e vedrete alla fine se è soddisfacente il lavoro io uso sempre il mio bram peter junior regolo la temperatura a seconda del tipo di legno e utilizzo questa punta piatta sia di spigolo che di piatto qui si vede proprio la porosità di questo di questo ligno ecco che qui vediamo anche l'effetto finale ed è avvenuto abbastanza bene soprattutto il fatto che sia un ovale con corteccia fa un bell'effetto se volete saperne di più c'è il mio libro la tecnica della pirografia lo trovate sia online che in tutte le librerie io vi aspetto per i prossimi video vi ringrazio per l'attenzione e se avete voglia andate anche a vedere il nostro sito elettronicadidattica.com dove potrete trovare pirografi accessori per la pirografia e anche per tanti altri hobby e attività creative a seconda delle vostre esigenze ciao a tutti a presto grazie grazie grazie